tutte le cose più bastarde eh si anch'io allora ascoltami io lascio in città il comando di ok si mette dentro la casa tu hai la fondo mi prendo il comando la rover ma figa di dio costano così tanto non spedermi vediamo bene perché avranno il top del top eh ho idea ma ho idea che sono anche fortini sti qua va bene dai tento ci proviamo ci sono la scambia carrelli faccio andare un'automobile così E' un ricognitore Mi serve leggero Anche un LAV 25 E' bello Eh Prendo già un F16 Block 52 Eh Io per ora Oh io la rischio Piazzo un ADATS Con la forza principale All'inizio Sto già sudando Madonna Ideo Oh brutto presentimento Che attaccheranno Pesante da Foxtrot E da Bravo Lasceranno scoperto il Delta Però che vabbè Quello è sempre così Eh da me arrivano Il mio problema è che Cominciano a arrazzare Hai capito? Beh E' per quello che ho messo Un comando di fanterie Il mio documento anche Non sto Lo faccio Faccio Lo ho tenuto a 70 punti non so per cosa io ho 0 punti ho comprato poca fanteria sulla sinistra che di solito compro 4 squadre invece ne ho comprate solo 2 però ho comprato beh ho 2 LAV25 e 2 Wolverine un LAV25 scout 2 LAV25 scout e un ACAV 1 LAV25 1.29-13 nemico vado a buttarlo giu ostia ho mancato di poco arriva andava ah mi serve supporto qua grande con leopard anche da te eh ho visto come si è messo come si è messo come si è messo eh ho finito i colpi dell'Adaz riesci a mandare avanti quell'eopard billo subito è giusto quello starfighter perfetto il moderna mi ha disintegrato ne ho visto eh c'è un wink è un tuor di anche che porca troia che porca troia eh no no e il moderna ti sta aprendo eh lo so ma eh non so cosa eh questa è la solita storia che è eh c'è il wink che è ok qua subito anche grazie eh dove c'è quel carro c'è un hardwark davanti persaglieranno lui eh ma tanto è delta force adesso come adesso non fanno niente papi si ho trovato il comando su delta e anche io non sono messo bene siamo in vantaggio comunque sta mollando o fgb 40 si anche da me ah da me sta rinforzando con un infraled in tutta la zona ecco è in mano sua ampiamente in mano un altro starfighter mi seguo a tanti fgb dentro il villaggio di eco secondo te ho chiamato un lombo eh voglio beccare quel se riesciamo a beccare anche giù il moderno non sarebbe male come cosa lo so sono vicoli del cazzo logistici ho capito io anche però no no è un camion eh a destra vado lo ingaggio lo ingaggio lo ingaggio preso preso via 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 si si devo spostare vabbè vabbè ha fatto un trade sbagliato eccolo lì eccolo lì il moderno eccolo lì il moderno dove aspetta aspetta motoshoot visto 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 cazzo quel lombo fa di quelle manovre mai viste in una pace dio caro eccolo qua eh preso preso cerco il lombo negativo non ce l'ho al retro non lo vedo io devi usare il live guard eh sì ciao sgancia grandissimo flak tor 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 dio caro il lombo quasi a terra al retro l'ho ritirato l'hai buttato giù è ancora io ok è ritirato era preso male eccolo lì preso vai faccio atterrare il lombo è messo male eh non posso è messo male il mio lombo tieni a farmi il live guard e lì anzi vallo vai 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 prendilo prendilo grande grande vai 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 il motoshute 90 da cazzo ecco esso ecco esso ecco esso infatti nel lungo andare non so eh lo so ho capito anch'io che nella breve adesso come adesso siamo in vantaggio di punti abbiamo fatto abbastanza male però nel lungo andare non so neanche io come cazzo ci portiamo fuori da questa situazione dmv i cani i cani chiediamo si sisi 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 Ho perso l'efficiente 11 Eh c'è un MiG-29 Un altro MiG-29-13, intendo Un altro MiG-29 Sì, no, ce l'aveva già l'artiglieria. Eccoli, vedo un pettina. Non vedo. Gli sto facendo male comunque io, ma è solo questione di tempo la mia. Deve avere Recon qui. Ha visto il mio comando. Vabbè, non importa. No, sta tirando a casa, so che non è lì. Fai mai spedagliarne. E' uccidere i campi vivierni. Ma va tranquillo. Non c'è nero, no. ... ... ... ... ... Oh, la. è una cosa che è questo 1200, eccolo lì where do you need us sir need someone to infiltrate enemy line infame longbow pronto se serve what are you doing where? in your right I'm starting to use Nighthawk so you have to take out the anti-radar otherwise I'm going to kill you I'm waiting for your orders sir no, no 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 not Mischiamo di mettere punti. Cominciamo a usare tattica di bersagli di opportunità. Quindi spottiamo, vediamo, scappiamo via e bombardiamo. Zemota in zona. Sì, vabbè, sta posizionando lì, sono un'unità di merda. C'è sicuramente un'unità su eco antiaerea, perché mi ha colpito il lombo prima. Sì, sì. Non so, ma non mi devi far vedere che allora no. Eh, non voglio rischiare troppo. Sì, c'è un nuovo posto di osservazione. Ricotta un zemello. Oh, ho messo comando su posto. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. 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 Vabbè, vabbè. che cos'è quel lombo? star star ho camion vedo un cazzo il mio lombo e consuma un sacco di benzina soprattutto cazzo eeeh, guarda un po' sky is ours it's gonna rain down on them crawlers where do you need us, sir? it is solo day eeeh ho appena fatto 25 punti aero nemico eeeh, è un MIG 29 gli faccio saltare gli zaopi cosi eeeh 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 ahh beh sicuro che ha roba lì dentro e che che vedi che so bello cazzo il mio longbow veramente consuma una marea di carburante cosa c'è lì l'artiglieria no penso è che non l'ho mi sta demolendo c'è dell'artiglieria potentissima avrai d'ana no d'ana no mi ha fatto fuori l'antiaerea avrà l'artiglieria quella ultra costosa che può verlo faccia di merda è il mi2 che cerca di infiltrarsi ho fatto ripartire il nighthawk ho preso un'altra unità provo hanno ripreso delta ok piaciata zemota è mortai mi saranno dove? piaciata zemota avanti arrivereanno dentro appena arrivano dentro il cosag sbara adesso sbara successivesse scusate 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 Attacca con l'artiglieria retro qui, Delta Force Mi 17, oh e la, 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 Wilk No, 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 c'è qualcosa di Faccia di merda Quel Wilk è un bel bersaglio, 100 punti Ma Over, KPUV è distrutta Sì, ti ha colpito su, ecco il comando Ma vai, via Ecco il Mi 2913 Mi 2913 Va contro l'HKP Esatto, faccio uscire Vado Portato a casa Evacuo, evacuo un altro E non hai il coraggio di farlo venire, stronzo Dove piazza Dove piazza? Siamo senza punti No, non stiamo senza punti Va bene così Non stiamo a rischiare 100 punti per un comando Buk Fuck Mi ha colpito il Nighthawk Però gli ho fatto 30 punti Faccia di culo Faccia di culo Eccolo Dio cam, perché manca per una volta che tira Mi ha colpito Mi ha colpito Ui, sono due Sono una coppietta Uno qui Uno qui Hai soluzione di tiro tu Cogniamo Oh, il DHS-M24P Quello lì è da buttare giù Gli RBS-90 Sono 100 punti in quel DHS-90 Mi ha il 24 95 Se lo butti giù Merda Quanti devo tirarne Olla Vai Bombardiere Mi-25 RBF In arrivo Vado Ingaggio F-16 fuori Preso Evacuo Bello Non l'abbiamo buttato giù il Mi-25 È riuscito a scappare di poco Vabbè, vabbè Adesso il mio bersaglio è individuare il Wilk nemico Mi serve altre È cagata da vosso per ora eh Eh no, gli abbiamo fatto male Vescio Si, rinforza tutto il bosco lì dove hai Vedo il Wig Mi faccio la sorpresa di Natale Divertiti a guardatelo No, negativo È troppo distante No, no, è troppo distante Aspetto Aspetto, aspetto È troppo distante, cazzo Non mi fido Ah, l'ha spostato, l'ha spostato Eh dai, mi invito Mi invito La antena adesso Eh vedi, vedi, vedi Ha spostato i... Cosa ti urta? Che non... Che non riesce a passare di qua Sì, gli urta abbastanza anche perché ha perso veramente tanta roba In questo momento Quel DHS se lo buttavano giù, cazzo, erano poi bei punti Fai ritirare gli RBS Ah, perfetto Si stanno già muovendo Eh, devi rinforzare la zona di Eko lì a destra In qualche modo Sokol Sokol li lo butti giù con i Live Garden Se ci passa sopra Veramente Fatto in carta, cazzo Lo fa apposta Merda Tutto tuo con i Live Garden, quello lì, eh Adesso E' là la contraerea di Live Garden Portali via, portali via da lei Contraerea, Dio cazzo Un altro? Faccio alzare... Il... Il Lombo Cazzo che non vedo niente, no Non posso più rischiare il Nighthawk per ora Occhio, occhio con Lombo Portali via Portali via Lo portalo lì davanti C'è il Moderna qui vicino E' quello che vorrei vedere Mi ha colpito il Ratchet C'ha qualcosa di veramente bello che vede Fide di puttà Sì, mi edito Mi scusate Sì, mi edito 90 in fondo No No Occhio, occhio che ci sono Ci sono i milmi Quelli alzieri Riesci a portare della fanteria qua dentro Nel flare Occhio, occhio, occhio Tranquillo Tranquillo Occhio lì Eh, riesci a portare della fanteria nel flare Ci serve della fanteria in quel boschetto lì proprio Rosso L'istri a portare della zona Retro con Lombo L'istri a portare della fanteria Mortai... è pieno stanno spingendo su delta con poca roba leggera e vecchia però stanno spingendo è un po' incerto chi? un secondo te sta tirando a caso aspetta un attimo chi cazzo sta qua? chi cazzo sta? oh comandosi 90 sono incerti su cosa fare quello è sicuro siamo in vantaggio di 500 punti cerchiamo di tenere questa differenza comunque il lato sinistro completamente scoperto ch147 con i rech sopra si stanno muovendo bella no non muoverlo lasciagli andare si mettono dentro il villaggio figlio di puttana mi ha colpito il ch147 lo vedevano e qua c'è un comando mi senti? si si ti ho sentito ma porco no non ce l'ha non ce l'ha più lì ce l'ha qua lo sto spostando dentro ecco si ti sento io billo billo ti sento billo ti sento non ce l'ha più Un'ugly bravo. Checklist depleted, ready to go. Checklist depleted, ready to go. That's your service, sir. Someone call for a cab? Sky is ours. That's your service, sir. Where do you need us, sir? Heading to given grid reference. Need some extra eyes, sir? Need some extra eyes, sir? Go ahead. Go ahead, move out. Go ahead. Get off the spear. Sì 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Sorry. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Okay. Okay. Yeah. 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 Perciò per te, sr. Se l'evento è in range, so are we. Movin' up! Atzo! Movin' up! What do you want us to transport?